Sono le 9.38 minuti all'interno di questa prima puntata settimanale di Play, siamo nell'ultima parte della puntata e insomma ho schiacciato un pochino quest'oggi le notizie delle prime pagine, insomma le notizie dell'ultima ora della prima ora e mezza di trasmissione per potermi permettere ecco di allargare lo sguardo su una vicenda che come ci dicevamo con l'ospite che sto per presentare fuori onda è stata molto rapidamente dimenticata purtroppo e quindi vogliamo un po' riaprire il discorso, si parla dell'Equador e di quello che sta succedendo con le varie crisi che sono esplose qualche tempo fa e appunto la situazione prosegue anche se le notizie sono sparite dalla prima pagina e vogliamo fare un po' un repilogo dei fatti, un po' di analisi assieme al ricercatore e giornalista freelance Federico Nastasi e quindi intanto ciao, benvenuto su Play Grazie per l'invito, buongiorno a tutti Allora ti chiedo in realtà una cosa un po' complicata perché una di quelle situazioni in cui sostanzialmente devo chiedere all'ospite di raccontarci un paese che è qualcosa che chiaramente nel giro di poche domande di un'intervista non si può riassumere provando ad andare leggermente un po' più nello specifico le notizie che erano emerse nelle scorse settimane parlavano di ad esempio questa irruzione di terroristi in uno studio televisivo si parlava di uno stato di emergenza diffuso a livello nazionale per via delle azioni di bande appunto terroristi collegate al narcotraffico non so quanto si sovrappongono queste due definizioni insomma ti chiederai di provare a farci un po' il risultato della situazione che cosa sta succedendo effettivamente in Ecuador e quali sono i principali attori da un lato mi sembra che ci sia un governo un po' più duro nei confronti della criminalità organizzata dall'altra forse questa si è indurita a sua volta insomma qual è in realtà la situazione? In Ecuador da almeno due anni c'è una vera e propria crisi di violenza che coinvolge tutto il paese non solamente quello che all'inizio era un conflitto tra bande di narcoterroristi che si sono appropriati soprattutto delle zone costiere della grande città di Guayaquil che è una città di 3 milioni e mezzo di abitanti uno dei porti commerciali più importanti di tutta l'America Latina sull'Oceano Pacifico e dal quale parte la cocaina che arriva poi in Europa e negli Stati Uniti fino a qualche tempo fa era uno scontro tra bande da almeno due anni e la violenza è arrivata nella vita quotidiana delle persone il picco diciamo più forte da un punto di vista mediatico è quello che abbiamo visto un paio di settimane fa questo assalto in tv che tu ricordavi ma solo per dare qualche numero fino al 2017 dell'Ecuador si parlava come un'isola di pace un paese tranquillo e al confine con Colombia e Perù due paesi invece che negli ultimi 30 anni Colombia e Pablo Escobar in Perù la guerriglia politica di Sendero Luminoso erano due paesi feriti dalla violenza politica e criminale l'Ecuador era un posto tranquillo fino al 2017 c'era un tasso di omicidi pari a 5 nel 2023 quindi in appena 6 anni questo tasso è cresciuto di 9 volte è arrivato a 46 omicidi ogni 100.000 abitanti è uno dei tassi più alti al mondo il più alto dell'America Latina nel solo mese di gennaio del 2024 si sono già rotti tutti i record del 2023 che era stato l'anno più sanguinoso fino a quel momento quindi la situazione è peggiore, è fuori controllo ma appunto è quello che abbiamo visto è solamente la punta di un iceberg che va costruendosi negli ultimi anni la cosa interessante da notare è che l'Ecuador non è un paese produttore di coca non è un paese, la coca viene da altri dalla Colombia, dalla Bolivia, dal Perù ma è un paese di transito fondamentale un paese di esportazione un paese che serve da ponte per trasportare questo prodotto elaborato, le foglie di coca poi elaborate e trasformate in cocaina i cartelli messicani che sono delle specie di multinazionali della droga usano l'Ecuador come una testa di ponte come una specie di hub logistico dal quale fare partire questi prodotti e questo porta con sé grande quantità di denaro tu dicevi quali sono gli attori gli attori da una parte sicuramente i narcotrafficanti e dall'altra parte lo Stato inteso come forze di polizia forze penitenziarie, giudici, politici i controlli che vengono fanno le autorità portuali il denaro serve per oleare un po' questi meccanismi e permettere di far passare merci che altrimenti non potrebbero passare chiaro, quindi insomma questo è un po' il punto di partenza viene da chiedersi insomma, visto che un po' hai citato le varie differenze, alcune differenze tra i vari paesi della Sud America viene da chiedersi come mai ci sia trovato in questa situazione nell'Equador nel senso che se guardiamo la Sud America con la poca attenzione che generalmente le dedichiamo pensiamo ok, è tutto un continente che ha a che fare con il narcotraffico e passiamo oltre sappiamo che non è così sappiamo appunto che in ogni paese probabilmente in ogni area di ogni paese la situazione è diversa e quindi effettivamente è cambiato qualcosa nell'Equador nel senso effettivamente era una zona a riparo dal narcotraffico fino a qualche tempo fa e che poi invece qualcosa è cambiato insomma come mai questa esplosione questa esplosione di violenza in questi ultimi anni proprio qui? Dividerei la risposta in due parti innanzitutto è diventato un paese di narcotraffico che non era, questo è successo negli ultimi 10-12 anni negli ultimi due anni in particolare è cresciuto il ruolo del narcotraffico ciò è una conseguenza di vari fattori uno per esempio ha a che fare con la moneta che si usa in Ecuador in Ecuador dall'inizio degli anni 2000 la moneta ufficiale è il dollaro statunitense è l'unico, uno dei principali paesi sudamericano che utilizza il dollaro e non ha una moneta propria questo rende più stabile l'economia e anche più affidabili gli scambi a livello internazionale sappiamo che il dollaro è la moneta più utilizzata per il commercio mondiale un'altra causa sicuramente ha a che fare con le azioni che sono state prese in Colombia in parte di accordo il processo di pace in Colombia in parte di repressione il plan Colombia per cui coloro che si dedicavano al narcotraffico in Colombia hanno lasciato il paese e si sono spostati a sud quindi in Ecuador e hanno spostato le loro attività sostanzialmente un terzo fattore ha a che fare con la pandemia 2019-2020 ha colpito forte tutto il mondo l'America Latina l'Equador è stato uno dei paesi che meno ha investito in politiche sociali è aumentata molto la povertà e quindi è aumentata molto la disponibilità di fasce della popolazione più povere più marginalizzate di accettare le offerte di lavoro di questi cartelli soprattutto i giovani nelle aree più povere di questa grande città Guayaquil ma anche della capitale Chito è aumentata la disponibilità di manodopera per i cartelli da parte dei giovani espulsi dal mercato del lavoro per causa della pandemia esatto sembra un modo un po' brutale di porre la questione ma in realtà è quello insomma ci ricordi che è così che funziona sostanzialmente la criminalità organizzata nel momento in cui ci sono persone appunto in difficoltà in larghi numeri è chiaro che tra queste molte saranno disposte a cominciare a lavorare in questo tipo di attività lo abbiamo visto lo vediamo ancora tuttora anche in Italia senza doverci spostare nemmeno in Sud America come dicevo però in apertura questa e tutta questa vicenda è esplosa appunto qualche settimana fa anche in maniera un po' mediatica con quel evento appunto relativo a questa invasione di questo studio televisivo e poi è completamente sparita sicuramente a livello mediatico a livello politico qualcosa invece si è mosso non sto leggendo nessuna notizia di comunità internazionale di vari paesi io penso soprattutto agli Stati Uniti che in generale si pongono come la polizia del mondo ma ancora di più nel continente americano insomma c'è un qualche tipo di pressione un qualche tipo di movimento o è una questione che viene lasciata interamente all'interno dell'Equador? Gli Stati Uniti hanno mandato delle unità di intelligenza di intelligence a supportare l'azione della polizia equatoriana c'è stata una reazione anche da parte degli altri Stati latinoamericani questo se ne è parlato poco in Europa ma l'emergenza in Ecuador è una cosa che interessa i paesi vicini Colombia e Peru ma anche il Brasile e quindi i paesi confinanti si sono messi a disposizione resi disponibili per supportare l'azione del governo anche perché è venuto fuori che appunto molte per esempio delle armi che sono state sequestrate ai gruppi criminali venivano dal Peru erano proprietà dell'esercito peruviano quindi questo indica un po' questa frontiera porosa non solo tra i due paesi ma anche tra istituzioni e mercato nero per quanto riguarda l'influenza del ruolo degli Stati Uniti oltre questo sostegno di intelligence diciamo c'è un po' una resistenza da parte almeno di una parte della società equatoriana che non vuole aprire le porte a un intervento più forte degli Stati Uniti uno dei simboli di questo ruolo degli Stati Uniti a volte un po' messianico speriamo che intervengano gli statunitensi per risolvere il problema è questa legge sull'estradizione che permette come è successo in Colombia negli anni 80 nel caso famoso di Pablo Escobar Escobar diceva meglio una tomba in Colombia che un carcere negli Stati Uniti perché le carceri tendenzialmente in Colombia erano delle zone franche che è quello che è successo in Ecuador in Ecuador si sta pensando di fare la stessa cosa il governo sta proponendo un referendum da sottoporre alla popolazione per autorizzare l'estradizione dei criminali equatoriani alla giustizia statunitense e quindi questo potrebbe appunto rafforzare un po' la collaborazione in termini di giustizia tra i due paesi vorrei aggiungere un'ultima cosa se c'è tempo per completare la risposta precedente dunque dicevamo perché è diventato un paese di narcotraffico lo abbiamo detto perché è diventato un paese così violento perché questa è una cosa più nuova è successo negli ultimi 5-6 anni questi picchi di violenza in Ecuador mentre l'ascesa del narcotraffico è un po' più di lungo periodo e quello che è avvenuto negli ultimi tempi è che è cresciuto il conflitto tra i gruppi tra i cartelli narcotrafficanti nel paese quindi come dicevo c'era un po' questa idea che si ammazzino tra di loro sostanzialmente e le carceri erano il terreno di conflitto tra questi gruppi abbiamo visto che quello che sta succedendo in questa settimana è che lo Stato riprende il controllo delle carceri sembra un paradosso ma 8 o 9 istituti penitenziari erano controllati dai cartelli dei narcotrafficanti in questi giorni la polizia sta riprendendo il controllo e hanno trovato di tutto dentro hanno tagliato la rete che permetteva la connessione internet hanno trovato televisioni alcol da bere, liquore, mariguana venivano utilizzate queste carceri sostanzialmente come un po' suite, un po' uffici di lavoro quindi la violenza è frutto del conflitto tra i gruppi ma anche poi, quello che è successo nelle ultime settimane del conflitto con lo Stato che ha cercato un po' di riprendere terreno e i criminali hanno reagito ovviamente la reazione dello Stato è un po' azzoppata perché questo livello di corruzione il denaro del narco che compra le volontà dei poliziotti, giudici indebolisce molto la forza dello Stato e coloro che non vengono comprati come abbiamo visto l'ultima notizia che ci è arrivata vengono uccisi è stato ucciso un giudice che stava portando avanti un'inchiesta proprio sui criminali che sono entrati nello studio televisivo come tu ricordavi all'inizio Sì, e questo un po' ci ricorda effettivamente altre vicende che abbiamo visto in altri paesi come dire interessati da un potere molto forte del narcotraffico insomma, qualche somiglianza la si nota ovviamente ogni paese, ogni periodo ha le sue specificità ma qualche annesso lo si vede e rapidamente per andare a chiudere ti faccio una domanda che è un po' quella più complicata quindi ti lascio insomma meno tempo così puoi tenerti sul vago ovvero il futuro prevedere il futuro è qualcosa che ovviamente non possiamo fare ma quali sembrano essere adesso le opzioni sul tavolo immagino che l'opzione è peggiore ma che ha una sua concretezza sia quella del tracollo totale della situazione quali sono invece insomma altre possibili strade e percorsi che potrebbero essere seguiti? Ma il governo in carica ha indetto imposto lo stato d'eccezione che sostanzialmente è un coprifuoco militarizzazione delle strade in realtà non è una ricetta nuova il governo precedente lo aveva fatto già decine di volte negli ultimi anni e non ha funzionato in generale l'esperienza latinoamericana penso al Messico di Felipe Calderon inizio anni 2000 ma anche alla Colombia del plan Colombia ci dimostra che la lotta al narcotrafico fatta solo di repressione di militarizzazione non solo non risolve il problema ma genera morti innocenti è quello che è successo proprio in questi due paesi che citavo Messico e Colombia sono aumentati il numero di vittime e non si è ridotto il peso il potere del narcotraffico le misure alternative dicono molti esperti riguarderebbero un po' le politiche più di lungo periodo cioè accompagnare la repressione indispensabile con le politiche sociali quindi togliere e intervenire a monte non a valle intervenire sulle cause che spingono una parte della popolazione a lavorare per il narcotraffico in contesti dove non c'è nulla dove le scuole sono chiuse dove non ci sono opportunità di lavoro gli asili nidi non ci sono l'Equador è un paese che negli ultimi tempi ha ridotto all'osso o meno dell'osso forse lo stato sociale e questo appunto ha colpito particolarmente le fasce più povere quindi nel medio periodo io non mi sento di fare nessuno in questo momento sento di fare previsioni specifiche penso che andrà avanti un po' questo tiro alla fune tra narcotrafficanti e Stato in questo momento c'è un po' una ripresa del controllo di campo da parte dello Stato però i narcotrafficanti sono abituati a giocare sia sul lungo periodo che poi a stare molto tempo sott'acqua nascosti a non cercare queste azioni queste azioni spettacolari le quali si sono generate in buona parte perché lo Stato aveva cercato di riprendere il controllo sulle carceri a inizio anno sono state un po' una controreazione è quasi paradossale scusami che la lungimiranza sia una qualità più dal lato del narcotraffico che non invece da parte delle istituzioni dove invece è un po' carente ma anche qui potremmo allargare un po' il discorso purtroppo non abbiamo più il tempo per andare più a fondo di così ma magari ci sarà ancora modo ecco di ritornare sull'argomento in futuro su ragionare ancora di questa area in futuro grazie mille davvero a Federico Nastasi per averci raccontato tutto questo grazie davvero alla prossima grazie a voi un saluto buona giornata noi ci prendiamo adesso un breve momento di pause e ritorniamo per i saluti finali grazie a tutti